Prodotti dalla più elevata qualità, totalmente adattabili a qualsiasi marca di veicolo, la migliore assistenza al cliente, i più ridotti tempi di consegna, impegnati nella ricerca e nell'innovazione, puntando in modo deciso sull'internazionalizzazione. Questa è Engances Aragon. Fondata nel 1992, Engances i Remolques Aragon è un'azienda dedicata alla fabbricazione di ganci di traino, rimorchi, kit elettrici ed altri accessori del settore dell'automozione, come il versatile Toebox. Engances Aragon è attualmente un'azienda leader sul mercato spagnolo ed è in continua espansione a livello internazionale. La nostra sede centrale si trova a Saragozza, in Spagna, nel poligono industriale Malpica. Qui disponiamo di moderni stabilimenti di oltre 15.000 metri quadri, in cui si trovano le nostre infrastrutture di produzione e logistica, insieme ai laboratori di ricerca, sviluppo e innovazione, l'area amministrativa e commerciale, le officine di fabbricazione e montaggio, nonché un ampio spazio espositivo che ospita i nostri prodotti. Con un team umano altamente qualificato e in continuo aggiornamento professionale, l'impegno qualitativo e il continuo miglioramento hanno fatto sì che Engances Aragon sia diventata l'azienda di riferimento del settore. Alla Engances Aragon, le politiche produttive sono sempre volte ad offrire ai nostri clienti la massima qualità ed il miglior servizio. In linea con questa filosofia, offriamo un'ampia gamma di prodotti che godono di completo riconoscimento sul mercato, tra i quali possiamo segnalare ganci di traino a sfera fissa, sfera mista, sfera estraibile orizzontale e sfera estraibile verticale. Kit elettrici standard, specifici e universali. Soluzioni di trasporto come il Tow Box e la nostra vasta gamma di rimorchi. Infine, una grande varietà di accessori relativi al mondo dell'automozione, della bicicletta e della mobilità. Le ultime tecnologie nel campo della metrologia sono un fattore chiave nello sviluppo di ciascuno dei nostri prodotti. In questo modo, la digitalizzazione mediante braccio scanner del telaio e del paraurti di ogni nuovo tipo di veicolo ci permette di ottenere il modello in 3D a scala reale e in tempi record. Tali dati ci consentono di sviluppare il corrispondente gancio con la certezza assoluta di un adattamento perfetto. Una delle nostre principali premesse è garantire la sicurezza di ogni prodotto che vendiamo. Per questo motivo, sui nostri banchi prova sottoponiamo ogni nuovo modello di gancio a 2 milioni di cicli, in condizioni estreme. Solo dopo il superamento di questi collaudi potrà iniziare la fase di omologazione e successivamente di produzione. Per raggiungere la più completa automatizzazione nei nostri processi di fabbricazione, abbiamo effettuato importanti investimenti in attrezzature e macchine dotate della più recente tecnologia. I nostri impianti di taglio laser, saldatura robotizzata o la linea automatizzata di verniciatura e granigliatura sono un chiaro esempio della nostra salda volontà di puntare sulla massima qualità del prodotto. Sull'attuale mercato globale risultano fattori chiave aspetti quali la rapidità di consegna del prodotto o la capacità di soddisfare le richieste afferenti ai veicoli più recenti che si affacciano sul mercato. Non appena un cliente contatta la nostra area commerciale, tutta l'infrastruttura logistica di Engance Saragon si mette in moto. Al fine di offrire risposte rapide disponiamo di un'ampia capacità di stoccaggio, con più di 15.000 metri quadri di superficie in cui ogni tipo di gancio si trova separato per marca e modello di veicolo. Prima dell'invio di ogni ordine, l'area spedizioni effettuerà gli ultimi controlli di qualità. Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire un servizio realmente eccezionale. Engance Saragon è l'azienda leader del settore in Spagna e dispone inoltre di una rete di distribuzione internazionale in più di 30 paesi. Parallellamente abbiamo lanciato il marchio TOWCAR, specializzato nelle soluzioni di trasporto per il tempo libero e le escursioni nella natura, con un'ampia gamma di portabiciclette, portasci, portabagagli, towbox e qualsiasi tipo di accessorio per l'automobile e la bicicletta. La più ampia varietà di prodotti, dall'alto valore aggiunto e adattati alle necessità concrete del cliente. I più rigorosi standard di qualità e sicurezza, frutto dell'automatizzazione dei processi. La garanzia del miglior servizio. Tutto questo fa di Engance Saragon una scommessa vincente, una scommessa per il futuro.